In sintesi, alcuni dei servizi andati online questa settimana. Domenica, l'ACMAR Basket Ravenna si è aggiudicata al passaggio al secondo turno di Coppa Italia, mentre Ravenna Calcio ha pareggiato contro la Cremonese per 0-0. Lunedì notte abbiamo seguito la Polizia Municipale durante i controlli nel Forese e a partire da martedì, con l'inizio dell'anno scolastico, abbiamo dato molto spazio alla scuola, intervistando gli studenti, seguendo la manifestazione contro la riforma scolastica e ascoltando il Preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali sul blocco dei ricercatori. Abbiamo anche affrontato i problemi del quartiere Sant'Agata, parlato del trend del mercato di Lizio Ravenna e seguito all'Opera Diego, educatore che si occupa tutti i giorni dei ragazzi all'uscita della scuola e sulle linee dell'ATM. Per quanto riguarda cultura e spettacolo è stato presentato il Festival di Letteratura di Genere Giallo Luna e Nero Notte e abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti degli eventi organizzati dal Festival di Danza Urbana ed autore Amo Tinamenti. Se vuoi approfondire le news presenti in questo flash, naviga nel nostro sito e vai ai servizi online.